Cause esclusive della morte di Veronica Locatelli che il 15 luglio 2008 precipitò dai bastioni di Forte Belvedere a Firenze a 37 anni nel giorno del suo compleanno furono la mancanza di illuminazione, la mancanza di segnalazione del pericolo e la insidiosa conformazione dei luoghi. Lo si legge le motivazioni con cui la Corte d'Appello di Firenze ha escluso diversamente da quanto affermato dal Tribunale in primo grado il concorso di colpa della vittima nell'incidente mortale al Forte Belvedere. La giovane donna in nessun modo, scrive la Corte d'Appello, ebbe un comportamento anomalo, né fu imprudente, né effettuò una rincorsa dal terrapieno, né saltò, né vi camminò sopra, ma fu tratta in inganno, sottolinea la Corte d'Appello, dalla mancanza di luce aggravata dalla conformazione dei luoghi che di notte faceva apparire il vuoto per pieno. E la Corte aggiunge che era del tutto imprevedibile per la Locatelli, perché non illuminato, non segnalato e non interdetto e quindi non visibile, che tra un terrapieno e un altro si aprisse un precipizio di otto metri. La Corte d'Appello riformò la sentenza di primo grado per il sindaco di Firenze Leonardo Domenici, aumentando la pena per omicidio colposo da dieci mesi a un anno e sei mesi. Ora, le motivazioni chiariscono perché. Se il sindaco non avesse omesso di disporre la chiusura del Forte Belvedere, scrivono i giudici di Appello, Veronica Locatelli non sarebbe precipitata come Luca Raso, il giovane turista romano morto in condizioni pressoché analoga il 3 settembre 2006. Domenici era stato ripetutamente avvisato, scrive ancora la Corte d'Appello, della pericolosità strutturale del Forte, del rischio per la salute delle persone, e che le opere per mettere in sicurezza i luoghi non erano state realizzate. In mancanza di protezione, dunque, il sindaco non doveva consentire, conclude la Corte, al pubblico di fruire di tutti gli spazi, specialmente di notte.